Contrastare l'obesità con il ginseng è possibile, ce lo diranno i ricercatori Unicam della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, coordinati dal professor Gianni Sagratini, che stanno portando avanti un progetto di ricerca che ha l'obiettivo di studiare proprio l'effetto anti-obesità di alcune molecole, chiamate ginsenosidi, e che sono presenti nelle radici di Panax ginseng. Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di studiare l'effetto anti-obesità di alcune molecole, chiamate ginsenosidi, contenute nelle radici di Panax ginseng. Questo progetto di ricerca è svolto in collaborazione con la Jilin Agricultural University, una università cinese con la quale Unicam collabora già da molti anni, e che insiste in un'area ben precisa che è chiamata terra del ginseng, quindi è un'area di riferimento in Cina proprio, ma anche a livello mondiale per la produzione di ginseng. L'obesità è una condizione fisiologica che è spesso associata all'insorgenza di malattie cardiovascolari, del diabete, ed è quindi importante andare a valutare e a studiare tutta una serie di azioni che possono essere appunto compiute proprio per contrastare questo tipo di condizione fisiologica che poi sfocia nella patologia. Con questo progetto di ricerca, nel quale sono coinvolti i ricercatori della Scuola di Scienze del Farmaco e Prodotti della Salute, i ricercatori della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e di Scienze e Tecnologie, ci proponiamo di caratterizzare e studiare gli estratti di ginseng che appunto produrremo qui in Unicam, di andare a valutare in vitro la loro attività antiossidante e antinfiammatoria e i meccanismi epigenetici che sono collegati proprio con questo tipo di attività antinfiammatoria. Oltre a ciò verranno anche condotti degli studi in vivo, questa volta in Cina, grazie alla collaborazione con la Gelin Agricultural University e l'Accademia delle Scienze della Medicina Tradizionale Cinese.